Allora, un bel applauso di lei, forza. Molto, ma come cosa sta? Vediamo gli amici, me lo faccio un po' soffrire. I 5.30 sono tutti ben preparati, una notte molto 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 difficile. Vincere, la salute, altezza peso, 2012, Luz Massimo, e quindi visiti nella prossima. Medi Santura, INFGB, la treda che ha vinto il valore. Lo visite, più santo, da un carino, salve, salve, salve. Grazie a tutti. Uno solo, Sampadona, la provincia dell'Oscarco, Sottie, bravi ragazzi, bravi tutti quanti, bravissimi, bravo, 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 bravo. Sampadona, la provincia dell'Oscarco. Sampadona, la provincia dell'Oscarco. Sampadona, la provincia dell'Oscarco.